Dillo a Giovanni è la nuova rubrica al servizio dei cittadini per risolvere insieme l'irrisolvibile. Qualcosa non va e non hai con chi interloquire? Noi ti faremo da tramite per fare ascoltare la tua voce. Hai da chiedere qualcosa agli amministratori? Vuoi risolvere dei problemi di viabilità? Hai problemi con un vicino e vuoi mandargli a dire qualcosa? Dillo a Giovanni sarà il tuo tramite per avere risposte alle tue richieste e soluzione ai tuoi problemi. Chiama al 366 47 69 017. Giovanni sarà pronto a rispondere e a esaudire le tue richieste.